salve ragazzi bentornati sul mio canale sono Ivar Ridoni e visto che il primo episodio di questa partitella col flipper è andata meglio di quanto pensassi ho trovato altre persone a cui piace ho deciso di farne un'altra stavolta organizzata un pochino meglio il primo tentativo è stato proprio una registrazione così tanto per stavolta voglio farla un pochino meglio con una qualità grafica superiore stavolta siamo in 4k con il green screen dietro quindi diamo al tutto un'area di professionalità giocherò di nuovo Eldorado ma se ci saranno altri gameplay proverò anche gli altri quattro tavoli a disposizione per ora vediamo come va il mio record qui è 22 milioni 724 mila dubito molto che li supererò però l'importante come ho detto la scorsa volta è divertirsi e farsi una partitella in compagnia quindi giocatore singolo classico e possiamo cominciare stavolta non c'è la mia stanza in mezzo ci sono soltanto io in green screen poi in fase di produzione regolerò la mia dimensione così da non essere troppo invadente o perlomeno da non andare a coprire parti importanti del tavolo ma spero che venga ben fatto quindi pronti a partire stavolta terrò anche l'audio del flipper un po più alto così potrete sentire i messaggi e anche la musica quindi pronti spariamo la palla in orbita via ci siamo già persi nella giungla 250.000 punti più 50.000 speriamo di non fare qualche gaffe intanto abbiamo già aperto un pezzo del dell'idolo 2 ok muovi nella bocca dell'idolo se ci riusciamo si intende l'ideale sarebbe riuscire a mandare la pallina nella parte destra ecco e fare una cosa del genere se ci riesco comunque stiamo facendo qualche puntino interessante dai probabilmente non ce la farò a mandarla nell'idolo ma niente pazienza facciamo un ultimo tentativo e a momenti ci rimetto anche la pallina maledizione porca miseria oh bene doppia pallina modo eccezionale per cominciare speriamo di riuscire a tenerle il più possibile di non perderle è con queste che si fanno i punti se riuscissi a oh mamma mia vai se riuscissi a mandarla un'altra volta nell'idolo sarebbe perfetto grande tre palline dai porca miseria voglio tenerle in gioco che si ha fatto la terza l'ho persa non l'ho visto a eccola ok pensavo di averla persa non tutte insieme è una andata peccato mi si stanno incrociando gli occhi ah mannaggia via subito là beh non è andata malaccio tutto sommato vi ricordo ragazzi se vi piacciono questi video ecco specialmente quando perdo lasciatemi un like iscrivetevi al canale e commentate oltre a condividere il video con amici nemici e chi più ne ha più ne metta 2 milioni chi è che mugugna ok esce da sopra eccola se riesco a rimandarla in bocca all'idolo lì in alto forse riusciamo a rifare il doppio lancio grande non c'è ancora la doppia pallina ma noi insistiamo persi nella giungla proprio adesso deve brutermi il naso ora vai ok oh quando va così in fretta è pericolosissimo vai ok aperto uno sportellino no che cacchio perché credo che sia l'ultima cerchiamo di giocarcela bene è pericolosissimo mandarla lì sopra vai di là vai nel buco ah peccato rimbalza qua rimbalza là e niente sì 500 mila punti in più abbiamo aperto uno degli sportelli dell'idolo uno dei cancelli due si è aperta la bocca vediamo un po' concentriamoci ah certo 300 mila punti non è che si buttano però è incredibile quanto uno si deconcentri durante una registrazione comunque sono preso dal fatto che sto registrando ho trovato un artefatto ok si è alzato ancora di più l'idolo no se riuscissi nooo no 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 calma non andare di lato oh si grande due palline un buon modo per concludere jackpot 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 aperto uno sportellino no no se n'è andata ok però l'abbiamo salvata jackpot vai vai di nuovo nell'idolo grande tre palline di nuovo super jackpot no non ne perdiamo vedo punti che volano ma non sto guardando ragazzi sono concentratissimo via su non cadete dentro c'è mancato un pelo mamma mia ah una se n'è andata ne abbiamo ancora due di nuovo tre mamma mia sto a fare il partitone non so a quanti punti sto non so nulla sono solo concentrati porcaccio boia vabbè rimandiamola nell'idolo cerchiamo di rispedircela sì ah no ok stavolta niente doppia pallina an adventure begins a quanti punti sto non riesco a trovare il tempo per guardare 10 milioni beh sicuramente meglio dell'altra volta sto andando peccato che sono rimasto con una sola pallina però ragazzi è così che si gioca very lucky non andare troppo al centro mamma mia sì ho preso un buco poison avvelenati intanto stiamo facendo comunque punti esperienza oh no ma guarda come la sono andata a perdere peccato ragazzi 11 milioni 400 mila segniamo il punteggio quanto ho fatto 10 minuti ce ne facciamo un'altra dai dai gioca ancora è troppo bello questo gioco ragazzi troppo vai cerchiamo di superare i 10 milioni dubito dubito perché quando registro purtroppo sono limitato ok nella bocca dell'idolo non così al centro mamma mia ok abbiamo attivato il salvapalline ok canestro e vai subito due palline adoro quando succede non riuscivo a seguirle jackpot oh mio dio oh vai vai così no era la direzione era giusta la traiettoria per andare nella bocca dell'idolo preso di nuovo tre palline ok concentrazione eh che cacchio dai però va dritta giù ah ok di nuovo nella bocca e altra e porco boia ladro infame eh io mi faccio in 4 per cercare da usare da sbloccare le tre palline cioè non potrei permettermi di parlare perché comunque ne sto usando due a raffica quindi però perché sempre in contemporanea attenzione uno e uno due no le devi io da solo in pratica sì fatto vai di nuovo tre palline awesome bene guarda i punti come volano no non in contemporanea eh vabbè vai salvata sì mamma mia ragazzi sto facendo il partitone super jackpot tutte cifrone sto vedendo vai vai uno due tre oh mio dio una è andata e per un pelo anche l'altra l'idolo è chiuso oh via attenzione magnificente oh ah per un pelo mio dio qui ok l'abbiamo salvata all'idolo non si apre più mamma mia niente l'idolo è andato in sovero non apre più la bocca ok non insieme sono un maschio non so fare più di due cose contemporaneamente ok vai vai non so a quanti punti sto ragazzi non stacco gli occhi dalla parte bassa il jackpot incrementa oh oh mio dio no è andato peccato a quanto starò ok intanto l'idolo si è riattivato vediamo se se riusciamo a ricolpirlo solo 3 milioni ma che stai addio tutto sto casino ho fatto solo 3 milioni no vabbè dai ho giocato un botto di tempo con 2 palle 3 palle vabbè che ci importa noi continuiamo bene idolo riaperto e canestro un'avventura comincia vai di là lì ah l'ha sfuggita beh ragazzi tutto sommato non sta andando male certo non ho fatto chissà quale punteggio come pensavo ma le stiamo mantenendo benino per ora magari adesso che ho di nuovo soltanto una pallina riesco anche a gestirle meglio missione completata comunque 10 milioni oh mio dio ragazzi 14 milioni si erano accumulati tutti mi sembrava strano ah beh la prima pallina dopo 10 milioni a quanto siamo stiamo a 14 milioni di 208 mila ho battuto il record del gameplay precedente se riuscissi a superare i 22 milioni sarebbe eccezionale andiamola lì abbiamo ancora il salvapalline attivato eh per poco ma ce l'avremo ok idolo attivato vediamo vediamo se riesco a mandarci la palla eh niente 500 mila punti lost in the jungle che succede oh è riuscita lì sopra vai in quell'idolo oh no peccato ragazzi non c'è neanche il salvapallina attivato 16 milioni dai ultima pallina vada come vada il record del precedente gameplay lo abbiamo comunque battuto non facciamo gli imbecilli quando inizi a fare destra 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 sinistra destra sinistra mi si incrociano gli occhi ok primo sportellino rimosso abbiamo toccato uno di quei tastini oh mio dio ah piantala di fare così no che peccato ragazzi 16 milioni 401 mila punti Ivan Ridoni è andata nettamente meglio rispetto allo scorso gameplay ci siamo divertiti perlomeno io mi sono divertito spero vi siate rilassati anche voi per ora mi fermo qui se vi è piaciuto il video lasciatemi un like iscrivetevi al canale soprattutto e commentatemi soprattutto per farmi sapere se volete altri gameplay e se volete vedere anche qualche altro tavolo ce ne dovrebbero essere ancora 4 da vedere io mi fermo qui e vi do appuntamento alla prossima volta nella speranza che vi sia piaciuto abbraccio a tutti ragazzi alla prossima